amiche e amici di rossini tv buongiorno e benvenuti a casa rossini oggi abbiamo ospite con noi franco elisei buongiorno franco buongiorno recentissimamente riconfermato presidente del consiglio lo leggo è perché non voglio sbagliare presidente del consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti ho detto tutto bene va benissimo è il minimo l'ho letto insomma almeno almeno quello franco buongiorno benvenuto buongiorno grazie dell'invito è una gioia è un piacere averti qui con noi in questa emittente che tu conosci dall'esterno e di cui conosci quando sei arrivato hai salutato tutti conosci naturalmente tutti quanti perché perché sono cresciuti tutti un po in qualche modo sotto la tua ala dopo tanti anni di di servizio effettivo come si suol dire si si conosce tante tante persone ma sono anche colleghi validissimi che adesso ovviamente lavorano con voi allora diciamo che franco teoricamente sarebbe in pensione teoricamente perché poi in realtà è uno dei pensionati più impegnati che ci siano in quanto avendo appunto dato disponibilità per questa riconferma alla presidenza la data non per per un titolo in più che che non gli serve ma la data per essere comunque anche avere un ruolo operativo e quando si ci si propone di avere un ruolo operativo poi da fare ce n'è eh beh sì da fare ce n'è molto anche perché in questo momento poi la nostra progressione è veramente un in un momento problematico diciamo chiamiamolo così ecco per e in questo momento c'è molto da fare c'è da ricostruire anche credibilità e autorevolezza nei confronti del giornalismo e quindi della nostra progressione e per far questo occorre un attimo dare una svolta quindi dare un contributo a tutti per cercare di eh riacquisire quel ruolo che dubbiamente invece meriterebbe la l'informazione e che in questo momento è sempre più necessario perché proprio in questo momento in cui c'è un'informazione che tende alla ehm disintermediazione quindi invece è sempre più occorre un ruolo proprio di mediazione del del professionista cioè del giornalista tutti sono professionisti importante che siano giornalisti e il problema in effetti è questo che da una parte c'è un'osservazione disattenta nei confronti del ruolo no cioè l'utente medio prende le cose così come gli arrivano senza indagare troppo eh su chi e su quali sono le le provenienze dall'altra eh anche a livello proprio eh strutturale organizzativo eh ci sono delle belle rivoluzioni perché è di questi giorni la notizia della chiusura delle redazioni eh di eh del tg4 e di studio aperto eh che diventano eh un canale eh nel quale eh l'informazione passa attraverso invece il tgcom che è un prodotto che nasceva per essere un prodotto eh per l'utenza digitale insomma cominciano a mescolarsi un po' le carte e questo fa bene o non fa bene al giornalismo? Beh guarda dobbiamo prendere atto di una rivoluzione che esiste di un cambiamento che purtroppo eh è dettato dai tempi è dettato anche dalle nuove tecnologie è dettato dalle dalle piattaforme con un attimo di distingue di attenzione su quello che avviene però ehm considerare una cosa io faccio sempre un esempio che ehm qualche diciamo circa vent'anni fa che sembrano tanti ma da un punto di vista diciamo di sviluppo delle situazioni non sono tantissime diciamo di analisi storica vent'anni fa per eh realizzare una pagina di carta stampata parliamo ancora di carta stampata eh ci volevano dai due ai tre redattori oggi un redattore nelle cronache locali soprattutto si deve gestire deve gestire circa otto pagine da solo quindi è cambiato veramente tutto nell'ambito dell'informazione e bisogna appunto stare attenti anche perché eh è vero che eh l'informazione ormai cioè tutto gira attraverso le piattaforme tutto gira attraverso i social ma è vera è vera informazione cioè ecco bisogna chiedersi questo io dico sempre che un po' i lettori o gli utenti adesso li vogliamo chiamare utenti multimediali perché ormai i lettori sono quelli legati alla carta stampata gli utenti multimediali eh in questo momento sono come gli allenatori di calcio pensano di capire eh assolutamente tutto di come gira l'informazione in realtà non è così i meccanismi di informazione sono abbastanza complessi e delicati e spesso non si conoscono e questo invece sarebbe utile che si conoscessero maggiormente proprio per far capire che tipo di lavoro e che tipo di professionalità è dietro un'informazione. Però mi viene da dire se l'informazione eh o meglio se il giornalismo e la comunicazione non riesce a far capire ai suoi utenti l'importanza delle fonti dell'autorevolezza eccetera come può far capire le notizie? Questo è questo è vero ma infatti spesso volentieri noi non comunichiamo la nostra diciamo così la nostra professione tutto quello che c'è dietro non riusciamo a comunicarla ed è vero infatti credo che sia uno dei compiti infatti dell'ordine dovrebbe essere proprio questa. Raccontare se stessi no? Eh sì ma infatti uno dei miei impegni è quello di uscire dalle quattro mura di un ufficio di una sede istituzionale e poter portare ad altri interlocutori proprio la conoscenza di come funziona l'informazione. Ecco questo è uno degli obiettivi che non è facile perché non è così semplice oggi come oggi a maggior ragione poi dopo dopo il lockdown riempire nuovamente sale in presenza per far conoscere alcune tematiche però questo è uno degli obiettivi perché veramente molti oggi pensano che tutto quello che trovano ormai in rete sia effettivamente informazione non è così. Certo si potrebbe partire da una domanda molto semplice l'informazione è un prodotto? Ma l'informazione è un prodotto culturale io il prodotto lo posso anche mantenere perché poi è legato ad un'azienda è legata a una testata che è un'azienda cioè quindi ovviamente ha bisogno anche di un calcolo di profitti e anche di spese quindi è un prodotto però è un prodotto culturale è un prodotto diciamo così di intellettuale non a caso parliamo di professione e quindi la professione è appunto un esercizio culturale un'attività culturale intellettuale. Tra i temi che ti stanno a cuore in particolare in questo momento c'è quello della informazione legata ai minori di questi giorni la firma di una nuova versione della carta di Treviso che già comunque si proponeva di lavorare sull'idea di una tutela dei minori ma allo stesso tempo senza eliminarli dall'informazione per troppa tutela perché il problema poi diventa quello. Ma infatti l'aggiornamento della carta di Treviso che è avvenuto in questi ultimi tempi perché in realtà noi l'abbiamo come ordine nazionale stata approvata a luglio però ha avuto il via libera sia del garante dell'infanzia e ultimamente anche del garante della privacy e quindi attualmente è proprio ormai anche in vigore e la novità era proprio questo cioè la filosofia che ha animato questa revisione era proprio quella di proteggere il minorenne e non nasconderlo perché non si tratta di nascondere si tratta semplicemente di proteggerlo. Una delle novità poi è abbiamo invitato attrezzo la carta a tutti i giornalisti a non chiamarlo più un minore ma minorenne cioè possiamo dire di minore età ma minorenne quindi abbiamo cambiato proprio anche nell'ambito di una terminologia in sostanza però abbiamo cercato di rafforzare alcuni elementi di tutela ma anche di declinare diciamo questa tutela in funzione delle fasce di età quindi abbiamo visto che da 14 a 16 anni sotto i 14 anni la tutela è assoluta da 14 a 16 a 16 a 18 abbiamo diciamo così ipotizzato un approccio che può essere diverso a seconda delle situazioni sempre che però questo approccio non crei una conseguenza negativa nello sviluppo del minorenne anche perché e chiudo non te la faccio troppo lunga perché è abbastanza tecnica ma anche perché la finalità della carta di treviso non è l'anonimato del minore perché molto spesso abbiamo visto in molte anche trasmissioni che magari si avvicina al minore se lo si intervista e poi lo si oscura dice oscurando abbiamo risolto il problema no in questo caso il fine della carta non è l'anonimato ma è la tutela appunto del suo sviluppo psicofisico quindi molto spesso non va neppure avvicinato non va intervistato perché si rischia di fargli rivivere anche mediaticamente magari un trauma che ha vissuto quindi la tutela è sullo sviluppo attraverso l'anonimato quindi l'anonimato è un mezzo non è il fine ultimo della carta di treviso certo naturalmente il rilancio periodico di questi temi arriva anche quando poi succedono fatti come le famose foto dei bambini dopo il naufragio che tra l'altro abbiamo fatto una scelta noi oggi di non mandare perché comunque sono viste e straviste nei confronti di queste cose la carta come si pone abbiamo rafforzato la tutela puntando proprio sul anche estendendo la percettiva anche se non c'era bisogno però l'abbiamo voluta puntualizzare proprio sulle immagini dei minorenni stranieri ecco in questo caso allora abbiamo fatto delle diciamo dei distinguo se la foto ha una valenza storica simbolica allora si può discutere se pubblicarla o meno se la foto è superfua cioè non rientra in quello che è nel codice deontologico e l'essenzialità della notizia allora indubbiamente se ne può fare a meno ecco che però abbiamo lasciato al giornalista anche una responsabilità cioè non abbiamo dovuto non abbiamo pensato di dare veramente tutte le risposte ad ogni situazione per ogni situazione può avere un'interpretazione a sé stante a seconda del contesto in questo caso abbiamo lasciato anche della responsabilità però se quella foto ha una forza storica una simbologia diciamo molto forte anche per smuovere le coscienze in questo caso come per esempio che ha fatto discutere la foto del piccolo island trovato morto sulla spiaggia quella ha spaccato l'opinione pubblica ha spaccato anche diciamo così gli operatori dell'informazione perché molte testate hanno scelto delle immagini più soft altre testate invece hanno scelto l'immagine molto più violenta molto più cruda ma finalizzata a smuovere le coscienze affinché questo non si possa più ripetere è un tema delicatissimo anche perché poi tutto questo si scontra contro una realtà che fa sì che l'utente si informi non solo attraverso le testate ma purtroppo alle volte anche attraverso qualcosa che lui crede essere una testata ma magari è un sito che poi alla fine andando a vedere in fondo in fondo è un sito di pubblicità per esempio e lì come si fa? Ecco in questo caso oggi come oggi c'è una forte commistione tra l'informazione e la pubblicità al limite del diciamo così delle carte diontologiche e poi c'è anche un altro elemento che nei social compare che non sono solo le fake news le cosiddette ormai le bufale attraverso i social ma c'è un altro elemento che è quello che è individuato come post verità le post verità non sono altro che delle informazioni o anche le cosiddette meme che vengono lette attraverso appunto la rete che puntano alla pancia del lettore non puntano ai contenuti cioè nel post verità significa in realtà che la verità passa in secondo piano non è che non c'è ma passa in secondo piano prima è diciamo più efficace l'effetto l'effetto che fa ecco questo è il nuovo rischio diciamo di tutto quello che naviga nella rete ecco su questo bisogna essere come dire preparati allora come si fa a proteggersi da tutto ciò? Allora primo non accontentarsi di un'unica fonte quindi vedere se attrezzo a tre fonti e poi ovviamente c'è anche un po' mettere in atto un po' proprio bagaglio culturale e di un po' di analisi critica guai a quello che veniva definito una volta dal filosofo Marcuse l'uomo ad una dimensione cioè nel senso che è l'uomo che si adegua al sistema e che perde il suo approccio critico di analisi critica ecco quello lo dobbiamo mantenere anzi quello dovremmo coltivarlo. E dall'altra parte sicuramente dovremmo lavorare sull'autorevolezza delle fonti costruendo una reputazione solida. Assolutamente sì e ritorniamo a quello all'inizio quando ho detto che va ricostruita sia un po' di credibilità ma anche quell'autorevolezza che meriterebbe tutti gli operatori dell'informazione da parte degli operatori di informazione però deve crescere non solo la responsabilità ma deve crescere anche la qualità come attraverso appunto magari dei corsi di formazione o corsi di giornamento che so che sono scomodi però in realtà si può discutere sulla qualità dei corsi ma non sull'utilità e sul principio che animano questi corsi. E poi non dimentichiamoci che arriva un momento in cui soprattutto la carta stampata ha bisogno di essere venduta ai periodici e allora magari senti una pubblicità aggressiva che racconta chissà cosa e poi magari lo vai a comprare non è che c'è tutta sta cattiveria dentro però la pubblicità te la fa apparire in quel modo per cui diventa ancora più una mescolanza. Sì e io dico sempre che se si ricerca il consenso e questo vale in molti campi per esempio anche nella politica se tutto è finalizzato a cercare il consenso credo che sia un obiettivo sbagliato una finalità uno spirito sbagliato il consenso arriva se tu fai le cose in maniera corretta e di qualità automaticamente arriva il feedback che è il consenso ma non devi finalizzare cioè non devi cercare il titolo ad effetto o appunto in maniera sensazionalistica per ottenere immediatamente il consenso poi magari guardi entri dentro la notizia e vedi che al limite non è proprio come era stata ventilata spesso e volentieri mi ritrovo nella rete alcuni titoli che mi invogliano a vedere la notizia ma il titolo non corrisponde è una ricerca di sensazionalismo o meno io capisco che la spettacolarità e il sensazionalismo fa parte ormai della della società di comunicazione assolutamente io l'ho definita a suo tempo permettimi questa similitudine che la spettacolarizzazione di una notizia è come la cornice di un quadro cioè quindi la cornice non mi scandalizzo quindi la cornice serve per valorizzare il quadro però quando la cornice diventa esorbitante rischia di nascondere il quadro di offuscarlo ovviamente a volte basta anche la cornice di per se stesso senza il quadro oggi vediamo anche delle cornici senza alcune quali ma a volte basta anche il quadro senza cornici certo 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 e in una situazione nella quale appunto come dicevamo all'inizio alcuni tg chiudono le loro redazioni invece nascono anche nuovi periodici di carta stampata no magari settoriali o mi ero preso qualche qualche appunto l'essenziale settimanale di internazionale the post internazionale che è un settimanale domani il quotidiano di benedetti insomma si spinge per per comunque realizzare un prodotto di carta che vada in edicola è strano questo no non è strano nel senso che io ho sempre creduto in questa diciamo così in questa permanenza della carta e l'ho sempre pregonata un po alle sorti del cinema il cinema ha avuto momenti di crisi sembrava sparire quando poi con le emittenti private c'è stato un surplus un overdose anzi di film che venivano proiettati il cinema entrato molte volte in crisi eppure invece il cinema è risorto e io sono di questa idea la carta stampata può risorgere ovviamente deve trovare diciamo la sua identità una nuova identità la carta stampata però non morirà se io sono di questa idea la carta stampata cioè la carta stampata l'abbiamo da secoli cioè secoli di carta stampata quindi non credo che sia arrivato il momento che muoia al momento di cambiare pelle deve cambiare pelle e comunque già in america che avevano predetto la morte della carta stampata invece sta rinascendo invece un'attenzione proprio per questo e io credo che non c'è non sono tra i pessimisti cioè sono tra quelli che la carta stampata vivrà con un'altra veste con un'altra pelle ma vivrà con quel ruolo magari di approfondimento che costruisce la solidità della reputazione e giova anche magari all'abbinamento con l'online della stessa testata non si devono far concorrenza devono essere per certi versi devono diventare complementari per cui uno può trovare anche immediatamente perché la tempestività della notizia in rete è innegabile quindi immediatamente può trovare la notizia sulla rete però può avere può andare a cercare risvolte approfondimenti o maggiori altre informazioni magari sulla carta stampata che comunque se uno vuole rimane maggiormente che nessuna rete si la rete è eterna rimane però va cercata sulla carta stampata ce l'ha immediatamente visibile insomma ci hai dato delle buone notizie ci dici che il giornalismo sta bene insomma tutto sommato no no ammetto che dico che l'informazione oggi viviamo in un mondo in cui c'è un surplus di informazione quindi io la chiamo un overdose di informazione mentre quindi non è in crisi l'informazione la sete di notizie è in crisi il giornalismo cioè in crisi questa mediazione ecco questo è quello che invece purtroppo non è la buona notizia la buona notizia è che tutti hanno veramente sete di informazione di notizie tanto è vero che la vanno a cercare sulla rete però c'è una crisi invece di giornalismo cioè di questa intermediazione di qualità che possa dare il cosiddetto bollino blu certificare la qualità della notizia e allora spendiamo quest'ultimo minuto per sottolineare l'importanza dell'ordine ma l'ordine allora l'ordine posso dirti due cose due battute veloci l'ordine è sempre stato creduto come un'istituzione o un organismo che va a tutelare a proteggere la casta dei giornalisti e assolutamente non è così la protegge nel momento stesso in cui protegge l'autonomia dell'informazione ma in realtà invece è a tutela proprio dei lettori degli utenti perché dove interviene l'ordine quello che il compito maggiore oggi dell'ordine è la tutela della correttezza dell'informazione quindi a è a favore degli utenti perché deve vigilare sulla correttezza dell'informazione se non c'è correttezza dell'informazione può intervenire e addirittura con sanzioni anche pesantissime anche vertici di testate autorevoli hanno subito sanzioni dell'ordine giornalistica nel momento stesso che è stata riscontrata una violazione di ontologica. Bene Franco abbiamo fatto una bella chiacchierata sono volati i minuti però secondo me abbiamo detto e raccontato cose importanti e soprattutto abbiamo fatto conoscere ai nostri telespettatori un personaggio assolutamente rilevantissimo nel mondo dell'informazione nazionale diciamo tranquillamente e soprattutto abbiamo la gioia di averlo qui con noi a Pesaro e di conseguenza locale faremo tesoro di questa di questa tua presenza nell'ambito del giornalismo regionale come presidente e ci auguriamo che con il tuo mandato quell'autorevolezza venga conservato o addirittura rilanciata perché ce n'è veramente tanto bisogno. Sì lo credo anch'io grazie grazie dell'invito e io mi sento al servizio in questo caso dell'informazione. Grazie a te grazie ai nostri telespettatori appuntamento a un'altra puntata di casa Rossini rimanete sempre con i programmi di Rossini TV Franco ancora grazie. Grazie a te.